un nuovo vlog sto facendo un video voglio dirvi solo una cosa voglio fare solo una ecco qua ragazzi sono arrivato voglio dirvi solo una cosa che che io andrò alle giostre stasera vado alle giostre e faccio la i video vlog vi ricordate vera? vi ricordate vera? ciao con le unghie unghie ma aspetta vabbè vabbè una volta hai vinto? ok ragazzi vi ho solo avvertito ciao 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 a tutti ciao ragazzi lasciate anche qua un pollicione in su 20 pollicioni in su ragazzi per questo video è tutto se non siete iscritti iscrivetevi al prossimo video ma come un po' ciao ciao